Ecco, sta registrando, ecco qua, di nuovo a lui, due niente da qua, a lui, di nuovo ripetiamo tutto perché prima non abbiamo registrato, ci permettiamo nella nostra miseria, misera conoscenza musicale, c'è una cosa detto, di fare un'opera, un'aria, un'aria fatta dall'opera della Durandò, del grande Focini, facciamo nessun don, a com' vena, a com' vena vena, bravo, qui ci da stiamo, perché non lo faccio, fatelo vicino a venire, che è stato a venire, a venire, a venire. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.